Complimenti per la prestazione, c'è stato anche l'assist nel finale per Ninkovic. Avete giocato una buona gara, non è stato facile però superare questo riborno? No, abbiamo fatto una buona partita penso. Secondo tempo un po' di fatica, anche fa molto caldo, però abbiamo fatto il secondo gol, l'ultimo minuto, allora penso che è meritato il risultato. Aspettavi di giocare dal primo minuto e come ti sei trovato con Ninkovic e capitano Ardemagna? Sì, in settimana mi sono provato di mettere come secondo attaccante, allora mi sono aspettato di giocare a titolare oggi, sono contento. Mi sono trovato molto bene con Ardemagna e Ninkovic. Hai cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, ora stai avendo più spazio, lo avevamo già detto. Il mister ti dà fiducia e stiamo vedendo un Ciaia diverso, nettamente diverso e cresciuto. Sì, sì, con fiducia di mister posso dimostrare che so giocare a calcio e voglio continuare così. Quanto è importante aver ottenuto la seconda vittoria davanti a questi splendidi tifosi che vanno sempre incitati oggi? Sì, è molto importante di vincere questa partita a casa. A casa dobbiamo essere forti e abbiamo dimostrato oggi che giocare qua è difficile. Grazie a tutti.